Vediamo la patiglia, guarda bene, non fa vero mai. Quando poco trascorse le 18.15, oggi 25 di settembre 2017, siamo nello svincolo della Salerno-Reggio, ingresso a Cosenza Nord, c'è un traffico assurdo, non riusciamo a capire cosa sia successo. Stanno camminando i secondi. L'autostrada ingresso è quasi bloccato, vediamo quando ne usciamo. Nel frattempo ricordiamo quelli che sono i nostri siti www.radiantennaduimila.com, TG, Facebook, tutte le sere dal lunedì al venerdì alle ore 21.30, il tutto da Mongrassano, centro in provincia di Cosenza, inoltre il nostro canale YouTube, quello di Roberto Verta, delle radio Cinghialetto Stereo Network, un canale che può vantare oltre 1100 video, in esclusiva appunto, che documentano il nostro territorio e l'Albania. come potete vedere la situazione è questa di un tranquillo lunedì sera, la lingua è troppo vicina. No, no. Abbiamo fatto un minuto? Sì, fino a mezzo. Ecco qui, sicuramente ci sarà traffico o sarà successo qualche incidente, un controllo o qualcosa. Adesso vediamo avanti come è la situazione. Grazie a tutti. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Mentre che arriva... Mentre che arriva... Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Piano piano stiamo arrivando a quello che è l'ingresso di Cosenza Nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.